YOLANDA SWITZ Mi raccomando, suggeritemi anche i video che dobbiamo fare sotto in un commento E fatemi sapere sotto in un commento Quanti anni avete e come vi chiamate Sotto in un commento, mi raccomando Oggi cosa facciamo? Facciamo slime con solo ingredienti di Halloween Quindi ingredienti arancioni, ingredienti viola Ingredienti, no, cadono le zucche Ingredienti così Quindi se volete altri video dedicati in questo genere Proprio slime con solo ingredienti di Halloween Lasciate un pollice in su Vi volevo ricordare che ci vediamo questo sabato Ossia il 19 di ottobre allo slime con Ita A Salerno Dalle ore 16 alle ore 18 Vi lascio qui la locandina e la lasciata anche ad inizio video Poi ci vediamo il 26 di ottobre invece Al negozio americano American Roulette a Portici E quello è un evento gratuito Io direi di iniziare Ragazzi ma chi è? Hanno bussato la porta No, no No Ma chi è? Oddio No No Oddio ragazzi Ma Ma cos'è successo? Oddio Avete visto qualcosa? Ma dov'è il mio cerchietto? Raga io non ho capito niente Ma sono scompa... Ragazzi è rimasta solo sta colla Oddio cos'è? Oddio ragazzi Non ci credo Ovviamente si avvicina ad Halloween E volete sapere chi è tornata? È tornata lei ragazzi I miei capelli Ma mi ha scombinato tutti i capelli Mi ha... Mi ha rivoltato uno studio Ma cosa è successo? Voi avete visto qualcosa? Fatemi sapere se avete visto qualcosa sotto in un commento Cosa c'è scritto in questo messaggio? Io lo sapevo Sono Granny e sono tornata Ed ho nascosto i tuoi ingredienti di slime di Halloween Trovali ma tenta a non trovarmi O sono guai Non so se ci rendiamo conto ragazzi Mi aiuterete anche voi? Mi aiutate anche voi a cercare gli ingredienti che ha preso Granny? Se vi piace questa serie mi raccomando pollice in su Allora ragazzi adesso mi preparo anche psicologicamente Perché ho un po' paura Aiutatemi Se voi vedete gli ingredienti Mi raccomando scriveteli sotto in un commento Se io ne perdo qualcuno Quindi Io direi di Iniziare a trovare gli ingredienti Allora io sono qui Ho un messaggio di Granny che è qua Questo è lo studio addobbato Ho un po' paura devo dirvi la verità Perché era da parecchio che Granny non si faceva vedere Da quella volta a casa di Daniele E questa volta è tornata Ragazzi io ho veramente tanta paura Ok Quindi quel tonfo era lei Io non ci ho capito niente perché mi ha suonato una botta in testa Non ci ho capito niente Io ero nel mio studio a registrare E all'improvviso ho sentito questo Aspettate Ho un po' paura perché adesso dobbiamo camminare per la casa ragazzi Questo è il suono della lavatrice Fortunatamente Andiamo un po' ad esplorare Io sono anche sola Sono sola con Yuki Ed ho paura Allora di qua c'è la stanza del lavoro Se c'è qualcuno Sgabuzzino niente Nella mia stanza niente Ragazzi dobbiamo andare anche a vedere La cosa di cui ho più paura È anche il giardino Lei potrebbe stare in giardino nascosta da qualche parte Andiamo a vedere Andiamo Aiutatemi ragazzi se vedete gli ingredienti dello slime Questo lo butta a terra con sdegno Ok andiamo Ragazzi Guardate chi c'è Ed è pure tutto buio Ma perché è così buio? Dove sono gli ingredienti? Dove sono? Ragazzi Ho paura Ragazzi aiutatemi Oddio È caduto qualcosa Non vedete niente perché è tutto buio Ragazzi ho paura Si è coperta Ma cosa sta spolverando? Ma cosa sta succedendo? Qui c'è Yuki che mi vuole dare una mano Ragazzi aiuto Aiuto sono caduti Yuki Dammi una mano Prendi le palline Mannaggia Aiuto Aiuto Ecco Aiuto Aiuto ragazzi Oddio Oddio Allora Mettiamo in salvo le palline Ragazzi sono riuscita a prendere il primo ingrediente No Oddio No Oddio non ci credo Non ci credo Sono riuscita a prendere ragazzi Il primo ingrediente Non lo so L'ha fatto cadere Erano le palline Le palline Viola Ok ragazzi Allora andiamo a cercare Granny Allora Di qua non c'è Di qua È andata via È andata via Non c'è più Qui sulla scala Non c'è più Ma perché Ragazzi ha chiuso tutto Ha chiuso tutto Sentite Sento un su C'è qualcuno in bagno C'è qualcun Oddio Ho paolo È lei raga Raga è proprio lei Ma No ragazzi Non ci credo Eccoli Eccoli Ecco la mia colla Eccola lì la mia colla Eccola lì lei Ragazzi c'è Lì sopra C'è il calderone Dove ha tutti i miei ingredienti Ok proviamo Ma c'ha pure la gobba Granny ma Quanto è brutta Granny Scrivete sotto in un commento Quanto è brutta Aiutatemi a prenderli Ma che ha fatto Ci mancano i glitter Ci mancano i foam Ci manca qualsiasi Oddio Anche le campane Ragazzi a noi Io sono pronta Questo video sarà un delirio Vediamo dov'è Ho paura di Trovarla dietro l'angolo Cioè non avete idea Oddio ragazzi Ragazzi l'ho vista L'ho vista Cioè cambia Posto subito Non ci sa niente a fare Allora Ragazzi l'ho vista La vedete anche voi Si vedrà molto ma È lì ragazzi Ma perché è tutto così buio Io ho paura Allora aspettate Qua urge Una corsa incredibile Ragazzi Io ho paura Ora perché è troppo calma È troppo calma Questa mi suona qualche mazzata in testa Oddio Oddio ragazzi Ho preso Ma se sono riuscita a prendere Sono riuscita a prendere Glitter arancioni Glitter neri E degli occhietti Avrà cambiato posto Avrà Se ne è andata Ma quanto è veloce Da 1 a 10 Non ce la posso fare Addio Avete sentito Avete sentito Ma No ragazzi Sta scendendo Oddio no Raga Avete sentito Raga sta scendendo giù Io non ce la posso fare Non ce la posso fare Andiamo Andiamo giù Ragazzi ha lasciato il calderone Il calderone lì Ve lo zoomo Ve lo vorrei far vedere Se Mette a fuoco Eccolo Ok Andiamo a Prendere Ma Ma che schifo Cosa sono Ma raga No vabbè No Io me ne vado Me ne vado Mi ha buttato Gli insecti addosso Ok ragazzi Che schifo Guardate Ma cos'è sta roba Ma Ma sono finti Raga Però fa impressione Lo stesso Ragazzi Andiamo a vedere Andiamo Ma Oh 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 Ragazzi Qui ci sono anche le scale Sta dormendo Corriamo 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 Mettiamo in salvo I nostri ingredienti Mettiamoli subito In salvo Nella nostra stanza Ok Andiamo a reperire Gli ultimi ingredienti Proviamo A Fare l'ultima ricerca Qui non c'è Qui non Oddio 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 Non ce la posso mai fare Ok Però noi siamo più forti Quindi andiamo a reperire Andiamo a reperire Gli ingredienti La porta è chiusa La porta è chiusa E se c'è di nuovo lei Che mi prende Abbastonate La affrontiamo Andiamo Ma Non c'è nessuno Ma C'è un foglio Mi sono Presa Gioco di te Con il resto Degli ingredienti Non ci voglio credere Raga Ok ragazzi Allora Sono ritornata Nella mia postazione Di Halloween E questo video E questo video è stato Abbastanza strano Non ci ho capito Niente Però sono riuscita A recuperare Tutti gli ingredienti Che mi aveva preso Gelli Tutti quanti E adesso direi Di provare A fare Uno slime Non so con cosa Ma proviamoci Allora Io direi Di mettere Questa colla E proviamo A mettere Anche un pochettino Di colla Della Sifidol E diamogli Una mescolata Mettiamo Anche Due Perline Due palline Ti È proprio Uno slime Di Halloween Super 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 stregato Sto mettendo Glitter Dappertutto E ho Recuperato Anche questi qua Che sono Ragnetti Teschietti E tutte le cose Così Le mettiamo Dentro Questo slime Per fare Lo slime Di Halloween Dobbiamo Usare La nostra Il nostro ingrediente Magico Della nostra Pozione magica E Uno Due Tre Eccolo qua È apparso Il nostro ingrediente Magico Mettiamo Poche gocce Del nostro Ingrediente Magico All'interno Dello slime Per farlo Formare Facciamo una magia Uno Due E Tre Eccolo qua Abbiamo Formato Il nostro Slime Ragazzi Questo È il nostro Slime Di Halloween Completamente Fatto con Ingredienti di Halloween Che abbiamo Rubato E preso Da Grammy Vi ricordate Il mistero Dell'anonimo E degli Slime Scomparsi Bene Quel mistero Ancora si deve Svelare Noi Ancora Non abbiamo Trovato Gli slime Quindi Se volete Che noi Troviamo Gli slime Che ci ha Nascosto L'anonimo Mi raccomando Tanti pollici In su Perché Arriverà Presto Anche quel video Ok Grazie a tutti Per aver visto Questo video Spero che vi sia Piaciuto Se vi piace Questa serie Di Halloween E di Granny Mi raccomando Mettete un bellissimo Pollice in su Dobbiamo sconfiggere Granny Insieme Io vi mando Un bacio Un abbraccio Come sempre Ci vediamo Domani A ore 14.30 Con un nuovissimo video Bye